buongiorno ragazzi buongiorno io non volevo fare questo video perché uno dice eventus balonia hai vinto hai recuperato dei punti no sulle prime in classifica e quindi vai a pensare cosa c'è di male adesso che io sono abbastanza incazzato si ragazzi sono abbastanza incazzato sinceramente e vi spiego il motivo adesso una notizia che è uscita ieri sera ma ieri sera non ero proprio in me per portarmi questa notizia perché ero molto arrabbiato ve la riporto stamattina anche se comunque anche questa qua era già nell'aria ma papu gomez è un nuovo giocatore del sevilla ok faremo delle cifre ok 5 milioni di euro più 3 di bonus nel senso che il papu gomez va al sevilla per un totale di 8 milioni di euro il papu gomez si non sarà più un giovincello si era rottuto con l'atalanta quindi il prezzo anche comunque normalmente si è abbassato tutto quello che volete ma il talento del papu non si discute il talento del papu non si discute e io mi sono rotto le palle che la juventus non abbia provato neanche a prenderlo questo giocatore sono veramente arrabbiato non è possibile non è possibile è vero c'era prima di juventus comunque sembrava che il papu se magari era in una scuola italiana era molto più vicina sia all'inter che alla roma la juventus era un più lontana ma perché era più lontana la juventus perché non ci ha mai provato a fare un'offerta vera per il papu gomez perché se tu comunque l'atalanta gli sbatti in faccia 10 milioni il papu te lo danno l'atalanta giustamente furba manda il papu gomez in una squadra non che mitra del campeonato italiano così almeno il papu gomez giustamente non se lo trova contro ma giustamente ma se gli fai un'offerta buona anche se lo trova contro l'atalanta te lo dà e la juventus non ci ha mai provato noi pensiamo a prendere rovella pensiamo a prendere 10 milioni noi pensiamo a prendere i giovani no ora sembra che la juve sia su un certo a che non mi interessa i giovani ci sta ragazzi allora il concetto dei giovani ci sta perché comunque in un futuro i giovani ci sta come concetto quindi è giusto prenderli non discuto questo ma non devi pensare solo al futuro devi anche pensare al presente è uno quel papu gomez non c'è neanche i titolari ok ora che grazie a dio pirlo comunque ha trovato no l'inquadratura di questa squadra soprattutto a centrocampo si è capito che pentancur mckenier tour devono giocare sempre cioè sempre la maggior parte delle partite perché comunque insieme fanno un bel centrocampo ok ma non le potranno giocare tutte è normale che non le potranno giocare tutte e quando tu pensi che in panchina hai gente no come rabbiò e come ramsey che entrambi prendono 7 milioni e mezzo a stagione non va bene non va bene no non va bene perché tu paghi due giocatori 7 milioni e mezzo ok che sono veramente ragazzi non sono da juve parliamoci chiaro spendono quasi 15 milioni di euro per quei due giocatori là e non mi vai a provare a prendere il papu gomez ma veramente bisogna 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 spregare veramente la salute a questi tre titolari la salute perché metti in caso mille corna qualcuno si infortunia noi abbiamo rabbiò e ramsey come sostituiti sostituiti capite lo capite o non lo capite com'è grave la situazione ma neanche i titolari ce l'avevi uno come papu gomez papu gomez manco panchina papu gomez gli avrei fatto giocare assolutamente ma un esempio uno come lui a 8 milioni era da prendere era da prendere tutti si stanno muovendo meno mai nel mercato tutti tutti perché comunque l'inter non farà acquisti ok va bene ma l'inter non ha la panchina che abbiamo noi ok noi abbiamo rabbiò e ramsey in panchina loro c'hanno sensi ericsson vogliamo mettere vogliamo mettere c'è un bel po di differenza la roma comunque sul mercato si muove sembra fatta per il charawi ci hanno fottuto reynolds con del del dallas sembrava nostro io è fatta prima prima andrà bene vento perché la juventus ha finito gli extracomunitari dei posti e poi alla fine va alla roma e anche lì si muovono solo loro e va bene depol non si muove a gennaio si muoverà a giugno e sapete vandrà depol sempre fondi sembrano delle fonti sembra che già abbia già un accordo con l'inter depol ok l'inter che furba locatelli a gennaio non si muove anche lui e poi a giugno sembra che abbia già quasi un mezzo accordo con il manager city perché sono andati in inghilterra pogba sembra bello felice allo united pogba è rimasto un sogno e rimarrà un sogno mi sa tanto perché non arriverà la juventus e chi prendiamo nel centrocampo uno come il papu era l'occasione ideale era perché costava poco e non voleva stare in quella squadra potrei provare l'affondo no invece no invece non abbiamo provato niente 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 noi ci siamo questo centrocampo e speriamo in dio che nessuno si faccia male e dobbiamo pregare la salute totale di bentancur quella di meccani quella di arthur perché sennò in camanchina abbiamo gente come rabbio e ramsey che prendono 15 milioni tra tutte e due 7 milioni e mezzo a stagione prendono questi questi due giocatori qua e non potete fare un offerto su su gomez ma stiamo scherzando ma stiamo scherzando paratici per ecco più di io e bologna c'è stata una piccola conferenza una piccola intervista paratici no che già gli aveva fatto già un po di girare le palle paratici nel pre partita juventus bologna e ma noi stiamo facendo il nostro vero abbiamo preso dei giovani interessanti direi che comunque grandi acquisti questo juventus non deve farli perché la juventus è già forte così com'è ah sì ah davvero è già forte così com'è è già forte così com'è ma veramente paratici stai scherzando ma cosa stai dicendo cosa stai dicendo a paratici cosa stai dicendo ma io non so il criterio veramente tu hai visto come giochi a calcio quando c'è quei due lì titolari l'hai visto come giochi a calcio e ripeto è normale che prima o poi si farà dovranno riposare non puoi cioè non puoi non esiste ragazzi non esiste io non ho parole io non ho parole chi prendi adesso a centrocampo chi prendi ditemi chi c'è libero nel mercato a gennaio nessuno a giugno non so neanche chi prenderai perché intanto su ti presi c'è è normale l'inter le erics non te lo darà mai chi prendi grande colpa a centrocampo grande colpa in difesa un quarto attaccante non si è visto un cazzo fino adesso non si è visto un cazzo non si può mai essere contenti qua cioè ok sono contento per il risultato sono contento che pirro ha capito il centrocampo che deve essere ma ripeto sarà ripetitivo non possono giocarle tutte e il j medical ultimamente negli ultimi anni è sempre pieno di giocatori della juventus bisogna anche tutelare quello bisogna anche tutelare gli infortuni e se qualcuno si fa male noi non possiamo permetterci di fare una champions league un campionato una coppa italia con rabbiò e ramsay forse la coppa italia ma forse non ci credo non ci credo ragazzi vabbè ragazzi niente io direi che il video può finire qua se io ho piaciuto mia quando c'è un bel like come vi sono nei commenti fatevi sapere un po' cosa ne pensate di questa notizia quale papu gomez ecco chiudo un attimo dicendo che è un peccato a prescindere per la dea perché si conclude una favola no papu gomez capitano sembrava tutto bello negli scorsi anni tutte favole tutte rose e fiori e poi un bastato litigio per per smantellare questa bella favola ovviamente l'atalanta si affida più allenatore che un giocatore perché se deve preferire perdere qualcuno per preferire preferisce perdere un giocatore che l'allenatore perché gasperini abbiamo visto che anche senza al papu sta facendo un ottimo lavoro però è un peccato a prescindere no questo era per chiudere il discorso del video niente ragazzi se comunque vi è piaciuto anche iscrivetevi al canale condividete il video con questi amici fate iscrivete anche loro noi ci vediamo al prossimo video quindi per adesso dal biancino è tutto bello